inerente al nostro progetto di educazione finanziaria e quest'anno il nostro corso sarà il responsabile organizzazione e gestione aziendale. Quindi abbiamo voluto dare una visione più ampia, sì ambito finanziario, ma vogliamo parlare agli imprenditori a 360 gradi e quindi ad esempio è indicato per chi deve avviare una nuova attività imprenditoriale oppure un'attività imprenditoriale l'ha già ma desidera ovviamente farla funzionare al meglio, vuole dare uno sprint maggiore perché chiaramente si parla di mercati, si parla di finanze, ma si parla anche di budget, di gestione dei costi, di tecniche di vendita, di posizionamento sul mercato, quindi diciamo che quest'anno abbiamo una visione più completa alle persone che si mettono nel discorso di educazione finanziaria.